solo per la strada ma devo spaccare ma cosa devo fare per farmi notare in tutti i modi per farmi guardare anche io vendi i dischi di MSG il mondo ormai sta iniziando a prendere i dischi anche io ho comprato anche io ho comprato anche Marco Cuoco sta ascoltando il disco grazie a Marco di Radio MPA ascoltate Radio MPA qui abbiamo Emanuele Radio MPA MC Jelly ascolta MPA sempre voi da casa ascoltate MPA noi facciamo pubblicità anche a Radio MPA e noi facciamo pubblicità anche a MC Jelly e noi facciamo pubblicità e noi facciamo pubblicità